Perché vaccinarsi? Vacciniamoci perché è così che andiamo a riprenderci la nostra società, il nostro mondo, i nostri lavori. Molte attività stanno chiudendo, sono chiuse, molti spazi sono ristretti, i rapporti sociali sono ridotti. Dobbiamo stare attenti con i nostri anziani, le persone fragili hanno difficoltà a fare qualsiasi cosa per paura di ammalarsi. Dobbiamo riprendere tutti questi spazi e dare a queste persone le possibilità di riprendere la propria vita. E' per questo che ci dobbiamo vaccinare noi, ma non solo per noi, nei confronti degli altri. Perché vaccinarsi anche riduce la possibilità poi o la nulla di trasmettere l'infezione, non solo quella di ammalarsi noi stessi. E questo vuol dire mettere in un angolo finalmente questo virus e riuscire a sconfiggerlo.